Buona macchina sta scatenando un delirio minimo la mia macchina tutta che ha portato minimo una cosa mai vista la mia macchina Grazie a tutti. Sì, ma non è che casca qualcosa, andiamo giù. Stai facendo tutto un video, non si vede. Sì, sì, sposta, sposta. Sposta questa, tirala avanti. Tira avanti, corri. Ragazzi, in diretta dallo Shan, questo è il danno alle macchine. Assurdo, assurdo. Ovviamente non poteva mancare anche la mia, eh. E' un'altra cosa che ho, se scherzo è peccato, fanno una mamma dallo Shan. Qui da casa massima è tutto. E' un'altra cosa che ho, se scherzo è tutto. Grazie per voi.